Trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corecomo Piemonte. Buongiorno da Cristiano Gatti, in questo spazio di Confartigianato Biella intitolato Impara l'arte, non metterla da parte. Parliamo degli impreditori giovani artigiani che si sono messi in proprio nell'attività brassicola. E ne parliamo con un grande esperto, nonché ideatore e organizzatore di un evento che si svolge ormai dal 2015 a Biella, che è Bolle di Malto. Raffaele Abbattista, benvenuto. Grazie. Beh, attività artigianali che stanno crescendo moltissimo, oltretutto nel Biellese abbiamo già 4-5 birrifici gestiti da giovani impreditori e stanno crescendo anche a livello nazionale. Come lo spieghi questo fenomeno? È un fenomeno che è partito già qualche anno fa, circa una ventina di anni fa, soprattutto in Piemonte, e si è trasferito moltissimo nella fase giovanile perché è diventata un pochettino come la possibilità di esprimere la propria arte attraverso la produzione di una birra artigianale, quindi mettendoci del proprio in quello che si produceva e quindi ha attratto tantissimo le fasce sicuramente più giovani e ha creato moltissime opportunità di lavoro. Questo è stato molto importante in questo percorso. Oggi in Italia si contano quasi 1.500 birrifici artigianali, in Piemonte ce n'è oltre 100 e questo fa sì che ci siano decine di migliaia di posti di lavoro che sono stati generati da questo nuovo modo di fare la birra. 2015 è nato Bolle di Malto che è diventata ormai una manifestazione nazionale e lo sta per diventare anche internazionale, cresciuta sempre di più. Come si spiega il fatto che a Biella abbiamo, abbiamo perché sono di Biella anche io, una qualità così alta nel prodotto brassicolo? Sicuramente Biella è una tradizione nella birra in generale. La tradizione della birra nasce anche dalla fortissima connotazione del nostro territorio e dall'acqua che sgorga nelle nostre montagne e che facilita tantissimo per la sua qualità e per le sue proprietà la produzione di birra artigianale. E poi la passione dei nostri mastri birrai locali che da ormai 15 anni producono altissima qualità di birra artigianale che ormai è conosciuta in tutta Italia e sono stati i pilastri della nascita di questo evento Bolle di Malto che io con Marta Flori abbiamo generato nel 2015 e grazie al supporto di tutti i volontari perché è un'attività di volontariato, oggi conta l'ottava edizione, punta all'internazionalizzazione dell'evento e punta a far diventare Biella la capitale italiana della birra. 100.000 presenze nell'ultimo anno. 100.000 presenze, sì. Sono cinque giorni di piazza dove si incontrano i birrifici da tutta Italia e gli street food con i sapori che anch'essi arrivano da tutta Italia. Musica dal vivo per otto ore di fila e si conoscono un sacco di persone. Siamo la base dell'inclusione sociale fondamentalmente. È un evento che raggruppa tantissime generazioni, è un evento che ha l'ingresso gratuito, non mi stancherò mai di dirlo perché noi puntiamo al concetto dell'inclusione sociale. Abbiamo riportato in piazza anche dopo il Covid tutte le problematiche per le quali ci siamo dovuti fermare anche noi ovviamente. Abbiamo riportato in piazza 100.000 persone l'anno scorso e speriamo quest'anno di portarne qualcuno in più. Anche dal punto di vista turistico è diventata una tappa importante perché comunque queste 100.000 persone arrivano anche da fuori regione. Assolutamente sì. Non solo da fuori regione, come ci piace dire, nel 2023 a Biella si parlavano cinque lingue diverse nella nostra piazza. Sono arrivate persone dalla Spagna, dalla Francia, dalla Germania. Bolle di Malto si sta effettivamente ampliando come evento e attrae moltissime persone a Biella. Che poi trovano una città da accoglierli, alberghi, ristoranti, le nostre montagne. Quindi assolutamente un evento turistico. C'è un consiglio che puoi dare a un giovane ma anche non a un giovane che magari è sempre stato appassionato di questo mestiere e non si è mai approcciato. Come avvicinarsi? Chiamateci. Bolle di Malto, www.bolledimalto.it. Noi ci rapportiamo tutti i giorni con tutti i birrifici d'Italia, con tutti i birrifici artigianali d'Italia. E abbiamo spesso fatto incontrare domande e offerte in modo che uno possa riscontrare una passione all'interno di un micro birrificio e poi magari chissà farne un lavoro. Un'anticipazione sul 24, data e cosa ci sarà? Sempre fine agosto, durerà una settimana. Riproporremo la festa come la conoscete. Saranno molto più importanti. Siamo alla terza edizione anche degli stati generali della birra italiana, che sono diventati un po' il fulcro di tutti i temi che riguardano la birra. e ci saranno delle grandi sorprese musicali. Grazie a Raffaele Battista, fondatore e organizzatore, insieme a Marta Florio, di questo grande evento della birra a Biella, che è Bolle di Malto. Un cordiale saluto a tutti. Vi parlerò del Garante per i diritti degli animali della Regione Piemonte. Il Garante per i diritti degli animali è Paolo Guiso, sono io. L'insediamento del Garante è avvenuto nel 2022, a luglio del 2022. Il Garante dura in carica cinque anni e non può essere rinnovato più di una volta. È una figura di garanzia, ha la sua sede presso gli uffici dei Garanti e del Difensore Civico del Consiglio regionale, in piazza Solferino 22. La figura è nata per creare un luogo, ovviamente, un riferimento omogeneo su tutto il territorio piemontese per quanto riguarda i diritti degli animali. Questo riferimento deve essere a disposizione delle istituzioni, ma anche dei liberi cittadini e delle associazioni. Tra i compiti del Garante, ovviamente, vi è quello di segnalare alla magistratura comportamenti lesivi nei confronti degli animali che sono oggetto di maltrattamento e quindi di individuazione di reati che vengono compresi nel codice penale. Il Garante piemontese è l'unico in Italia, circa un anno fa venne fatta una proposta per istituire un Garante nazionale in carico al Consiglio dei Ministri, ma questa proposta è ancora sospesa, non è stato istituito il Garante nazionale. Gli altri Garanti sono tutti a livello di amministrazioni comunali, quindi all'interno di un mondo che è più ristretto rispetto a quello del Garante piemontese. Quali sono i compiti del Garante? Il primo è quello di registrare e rispondere alle istanze dei cittadini, di mettere i cittadini in relazione con le istituzioni, di segnalare e dare pubblicità alle azioni che le istituzioni fanno attraverso norme, leggi, ma anche operazioni di tipo di diffusione dell'attività che può essere a favore degli animali, quello di partecipare a incontri, convegni, tavole rotonde per la diffusione di quello che viene fatto nei confronti degli animali e della loro tutela, di segnalare al Consiglio regionale eventuali correzioni alle leggi, eventuali aggiustamenti. Recentemente è in itinere una legge nuova sugli animali d'affezione che è stata anche oggetto di considerazioni da parte del Garante. Per quanto riguarda la formazione, il Garante è sempre disponibile a partecipare e a collaborare a informazioni a livello delle scuole e a livello dei cittadini. È possibile contattare il Garante in maniera diretta telefonando allo 011-5757-172, che è il nostro numero dell'ufficio, mandare una mail all'indirizzo mail garante.animali-cr.piemonte.it oppure, semplicemente, scrivendo sul motore di ricerca Garante Animali Piemonte, compaiono tutte le pagine che riguardano le attività del Garante e la possibilità di contattarlo. Gli incontri solitamente avvengono il mercoledì mattina, tra le 10 e mezzogiorno, su prenotazione. Invece, per quanto riguarda le istanze, il Garante si riserva di rispondere per iscritto entro un tempo ragionevole, il più corto possibile, oppure anche di contattare direttamente attraverso il telefono chi ha mandato le istanze. Vi ringrazio per l'attenzione. Buongiorno, sono il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Piemonte. La legge istitutiva del Garante ha attribuito, tra le varie funzioni, quella di monitorare e verificare le condizioni di accoglienza dei minori stranieri, anche non accompagnati. Ma la grande rivoluzione in questo ambito è avvenuta nel 2017 con la cosiddetta legge Zampa, che ha previsto l'introduzione della figura del tutore volontario del minore straniero non accompagnato, attribuendo ai Garanti regionali le funzioni di individuare, selezionare e formare questi tutori. Ma chi sono i minori stranieri non accompagnati? Sono appunto dei minorenni, che provengono da Extra Unione Europea, e che giungono sul nostro territorio privi di accompagnamento nel senso giuridico del termine, quindi privo dei genitori oppure di quelle persone che ne hanno la rappresentanza legale. E chi è il tutore volontario? Fino al 2017 a questi ragazzi veniva nominato un cosiddetto tutore istituzionale, quindi un sindaco, un assessore o un direttore del servizio sociale. Ma con questa legge si è voluta dare un'importanza fondamentale alla garanzia dei diritti di questi minori che giungono sul nostro territorio. Ed è stata proprio creata una figura, che appunto il tutore volontario, che deve riuscire a creare un rapporto diretto con questi ragazzi. Quindi cosa fa il tutore? Il tutore si occupa certamente di tutti gli aspetti più burocratici di rappresentanza legale dei minori, per quanto riguarda i documenti, l'ambito della salute, l'ambito dell'istruzione, ma è molto di più. Cioè il tutore rappresenta proprio una guida, una funzione di supporto e di sostegno del minore per il raggiungimento del suo percorso di autonomia e di indipendenza. Il tutore non opera ovviamente da solo, ma lavora insieme a tutti quei professionisti del mondo dell'accoglienza che si occupano appunto di minori stranieri e agisce insieme al ragazzo e insieme a questi professionisti per fare in modo che vengano garantiti tutti i diritti che la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e la nostra legislazione prevede a favore appunto di tutti i minorenni e per fare in modo che su questo ragazzo venga creato un percorso il più possibile individualizzato che porti appunto al raggiungimento della maggior età ad un'autonomia e ad una indipendenza. Spesso questi rapporti però non si interrompono con il raggiungimento della maggior età. Dal punto di vista legale ovviamente sì, ma dal punto di vista umano no. E questo è diciamo la più importante testimonianza di come questi rapporti siano dei rapporti duraturi che creano delle relazioni importanti tra i tutori volontari e i ragazzi appunto e le ragazze straniere. La nostra regione si è adoperata fin dall'introduzione della legge per garantire al massimo la sua attuazione e posso dire che il Piemonte si distingue nel panorama nazionale proprio per l'attenzione che viene riservata ai tutori. Non soltanto quindi attività di sensibilizzazione e di formazione, ma anche tutta una serie di strumenti e di supporti che aiutano i tutori una volta che sono stati nominati. Ma come si diventa tutori? Al momento noi abbiamo circa 500 iscritti nell'elenco dei tutori che è tenuto dal Tribunale per i minorenni, ma c'è assolutamente una grande esigenza di nuove iscrizioni perché il numero dei minori stranieri non accompagnati sta aumentando soprattutto nell'ultimo anno. Allora per assumere informazioni e per comprendere se questo percorso può fare al caso vostro innanzitutto si può visitare il sito internet del Garante per l'infanzia della Regione Piemonte in cui è pubblicato il bando dove ci sono una serie di informazioni poi ovviamente l'ufficio è assolutamente a disposizione per fornire tutte le delucidazioni necessarie. Una volta compilato e aderito appunto a questo bando si viene convocati ad un colloquio conoscitivo. Qui vengono fornite tutte le informazioni necessarie sia su che cosa fa effettivamente il tutore volontario sia sul percorso per diventarlo. È un percorso volontario quindi la partecipazione anche al colloquio non è in alcun modo vincolante. Il prossimo corso di formazione partirà a settembre di quest'anno e a seguito di questo percorso si potrà appunto iniziare ad essere tutori volontari di un minore straniero non accompagnato. Buongiorno, sono Domenico Agasso siamo qui con Paola Baldovino difensore civico della Regione Piemonte una risorsa preziosa per la collettività piemontese. Vogliamo quindi spiegare di che cosa si occupa e in quale misura possa essere utile ai cittadini? Il difensore civico è un organo della Regione Piemonte ed è preposto la tutela della buona amministrazione con riferimento di uffici dell'amministrazione regionale ed amministrazione periferica dello Stato che operano sul territorio piemontese. È un istituto utile perché si può chiedere l'intervento del difensore civico quando nel rapportarsi con queste amministrazioni si riscontri un disservizio o una inefficienza. Si pensi per esempio ad una pubblica amministrazione che non risponde alla richiesta di informazioni oppure che non rispetti i termini di definizione del procedimento. Quali sono le modalità attraverso le quali interviene? Innanzitutto occorre precisare che il difensore civico interviene in una fase antecedente all'insorgere di una controversia agisce con la cosiddetta moral suation essendo sprovvisto di poteri coercitivi. Rivolge i suggerimenti rimedi alla pubblica amministrazione affinché questa rimuova il disservizio oggetto di segnalazione. Mi preme sottolineare che l'intervento del difensore civico va a beneficio non solo del segnalante e della collettività ma sia di aiuto anche per la stessa pubblica amministrazione che proprio grazie ai suggerimenti del difensore civico può correggere la propria azione non rispondente in quel caso ai principi di efficienza e di buon andamento. Il difensore civico aiuta anche a ripristinare attraverso il suo intervento quel rapporto di fiducia fra cittadini e pubblica amministrazione. Il difensore civico quindi non va confuso con la figura di un giudice che decide tra due litiganti. Assolutamente no non è una figura assimilabile a quella di un giudice come peraltro a quella di un avvocato. Si pone in una posizione di terzietà tra le parti cercando di facilitarne il dialogo e devo dire che per mia esperienza la pubblica amministrazione è piuttosto attenta a cogliere i rilievi che le vengono rivolti. Il difensore civico è anche garante per il diritto alla salute. Ambito questo delicato è fondamentale per la collettività. Sì questa funzione che è stata attribuita al difensore civico dal legislatore regionale nel 2018 consente ai cittadini di segnalare all'ufficio del difensore civico disfunzioni di servizi in materia sanitaria e sociosanitaria. E poi il difensore civico è anche garante del principio di non discriminazione. Sì questo ruolo consente al difensore civico di intervenire anche di propria iniziativa quando ravvisi comportamenti discriminatori posti in essere da amministrazioni che operano sul territorio piemontese. E un'altra importante funzione che svolge è quella di organo di riesame in materia di diniego di accesso documentale e di accesso generalizzato ed è questa una funzione importante perché consente ai cittadini di potersi rivolgere al difensore civico anziché all'autorità giudiziaria e questo con notevole risparmio sia in termini di tempi che di costi. E sì perché ricordiamolo l'istituto è gratuito. Sì assolutamente non ci sono costi da sostenere accessibili a chiunque ed è molto semplice inviare una segnalazione al difensore civico si può trasmettere la segnalazione tramite posta ordinaria presso gli uffici in piazza Solferino 22 a Torino oppure via posta elettronica compilando il modulo presente sulla pagina del difensore civico sul sito web del Consiglio regionale. Bene vi invito a visitare la pagina web del difensore civico nella quale potete trovare notizie utili sulla difesa civica importante istituto che costituisce una risorsa per la collettività piemontese. Saluto Paola Baldovino e vi ringrazio per l'attenzione. Sono Bruno Mellano garante delle persone detenute della regione Piemonte. Parliamo di carcere ma cosa vuol dire parlare di carcere? La Costituzione nell'articolo 27 parla di pene di pene al plurale. I padri costituenti e le madri costituenti con grande lungimiranza non hanno voluto focalizzare l'attenzione dell'esecuzione penale sull'ambito penitenziario ma sin dall'inizio hanno parlato di misure molte diverse misure per affrontare con sicurezza il problema della rieducazione di chi ha sbagliato di chi ha compiuto un reato o di chi è in attesa di una esecuzione penale o di una sentenza. Parlare di pene vuol dire dare subito l'impressione che ci può essere un percorso diversificato diverso per ciascuno di noi per ciascun cittadino per ciascuna persona che ha incappato nella giustizia ma vuole anche dire che tutta la comunità tutte le istituzioni locali regionali nazionali sono coinvolte in un percorso di recupero. L'articolo 27 della Costituzione dà una linea di indirizzo chiara e netta ai giudici agli avvocati al mondo del carcere a chi amministra la giustizia e a chi amministra il carcere una linea di condotta che prevede attività formative lavorative di consulenza psicologica e sociale di accompagnamento al recupero di accompagnamento al riingresso in società. Su questo si misura la civiltà di un paese lo hanno detto i filosofi illuministi e illuminati del Settecento l'hanno scritto tanti giuristi lo diciamo anche noi garanti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà in ambito penitenziario e non solo misurare il livello di civiltà di un paese lo abbiamo visto in questi giorni in Italia e in Europa vuol dire anche misurare come possiamo trattare le persone che sono sotto il tallone della giustizia sotto la forza legittima e legale della giustizia abbiamo avuto episodi anche in Italia e non solo in Europa in queste settimane in questi mesi che ci hanno interrogato il caso di Beniamino Zuncheddu 33 anni ingiustamente passati in un carcere italiano abbiamo avuto il caso storico importante fondamentale per la battaglia sulla giustizia giusta di Enzo Tortora oltre 40 anni fa arrestato sotto le telecamere delle tv e poi risultato totalmente straneo ai fatti contestati allora dobbiamo riflettere quando parliamo di carcere di esecuzione penale in carcere che in molti casi oltre un terzo oltre il 30% sono persone che sono in attesa di giudizio appellanti o ricorrenti quindi formalmente innocenti e al termine del iter processuale in molti casi nella metà dei casi sono dichiarate innocenti sono dichiarate del tutto estranee o non colpevoli allora parlare di carcere vuol dire parlare di un servizio pubblico costoso oneroso per le nostre tasche di cittadini che deve essere però volto con forza e con l'aiuto di tutti ad essere efficace ed efficienti solo una carcere che sa corrispondere la finalità di recupero di reinserimento nella società è un carcere costituzionale allora la formazione il lavoro le politiche attive del lavoro la sanità la scuola l'università sono i punti in cui si misura la capacità di un carcere di essere adeguato alle proprie finalità su questo tutti siamo responsabili tutti siamo partecipi di un percorso di recupero e lo facciamo non per finalità religiose filosofiche umanistiche ma per puro utilitarismo di cittadini che pagano le tasse e che sono interessati a che il servizio pubblico esecuzione penale in carcere sia efficace ed efficiente che la recidiva si abbassi dal 70 al 10 anche lo 0% con i molti progetti e su questo sono sicuro di poter dire che l'impegno nostro di garanti ma anche della regione Piemonte è stato in questi decenni molto importante e fondamentale un sostegno quindi agli operatori un'attenzione reale per chi è in carcere e per tutti gli operatori che in carcere ci lavorano salve i programmi di Rai3 riprendono ora a diffusione nazionale buona visione per chi è in carcere